Sindaco, oggi tradizionale giro dei cimiteri, ci troviamo al cimitero di Cartecchio, qual è la situazione anche per i cittadini che vogliono visitare i propri cari? Io devo dire che ho trovato i cimiteri in ottime condizioni, la TEM ha lavorato molto negli ultimi mesi e nelle ultime settimane per farli trovare pronti. E' chiaro che ci sono delle aree che sono ancora inaccessibili, però devo dire che è stato fatto davvero un grande lavoro. Ho trovato tantissima gente, ma questo è un po' il risultato del fatto che quest'anno è un po' particolare, dopo un anno di terremoto abbiamo riaperto anche diverse aree, così come nel cimitero cittadino, perché proprio nei giorni scorsi sono stati riaperti 5 padiglioni classificati B, quindi diciamo con danni lievi al pubblico, attraverso un lavoro davvero rapido, veloce ed efficace da parte della Teramo Ambiente che era delegata a fare questi interventi e dell'impresa. Abbiamo riaperto il portale che era chiuso oramai da quasi un anno, anche qui l'impresa è stata davvero brava e quindi adesso restano soltanto le zone per il cimitero cittadino, le zone di Chiaratee, che poi sono quelle che fanno parte del cimitero monumentale, che però vedete la bella iniziativa della Team che ha posizionato dei portafiori in modo che i cittadini possano lasciare un fiore ai propri cari. Su questo discorso dei cimiteri, del cimitero urbano, abbiamo richiesto la protezione civile un gruppo, un GTS, cioè un'ulteriore verifica dei cimiteri, della parte monumentale del cimitero, perché vogliamo, ove ci sia la possibilità, tramite un piccolo intervento, riaprirli al pubblico.